Carissimi amici, è arrivato per il YouTube e oggi torniamo a essere Due Test Wars Perché finalmente è uscita la mod su un nuovo aggiornamento Quindi voglio provarla qui con voi e ci divertiremo insieme Partiamo subito, ma come sempre siete qui sotto tantissimi like Lasciate più like possibili per aiutarmi a supportare la serie di Due Test Wars E se vi piacciono questi tipi di giochi, questi tipi di video Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Perché qua su questo canale, tutti i giorni alle 18.20 esce sempre un nuovo video Adesso partiamo subito, cominciamo, facciamo single player Con questa mod comincio già con Ricci, Ricci è già sbloccato È meglio così, meno male, quindi direi di usarlo subito, no? Cioè, veramente, appena l'ho installata, avevo già Ricci Meno male, meno male, si parte, si comincia Su, muoviti qua a caricare Tra l'altro il consiglio dice, iscriviti a Chad Norbus, così senza motivo Ma cosa? Chad Norbus comunque è il creatore della mod È lui che ha creato questa mod Infatti qui sotto in descrizione vi metterò il link del suo canale, del suo video Così potete scaricarla Apriamo qui la porticina, perfetto, perfetto Ed eccoci qua Tra l'altro, come potete ben vedere qua Abbiamo il pulsante che ci permette appunto di attivare le varie funzioni, no? Come ad esempio posso mettere il God Mode No Ragdoll E poi voglio pure vedere qua il No Clip Guardate qua, ma che roba Solo con il No Clip Su chiudi sto menu Solo con il No Clip e posso muovermi dove voglio E questa volta siamo proprio con la versione, con l'ultimo aggiornamento di Duty After Wars Bellissimo, spettacolare Vediamo se c'è qualcosa, qualche oggetto così da prendere nell'aria No, voglio vedere che cosa c'è lì dentro Voglio vedere che cosa c'è dentro sto coso Che non l'abbiamo ancora visto L'abbiamo visto soltanto così leggermente nei video scorsi Ma vediamo che cosa nasconde questo... Come posso chiamarlo? Questo container, questo contenitorio sospeso sulla torretta 3, 2, 1 E prepariamoci ad entrare qua dentro E giustamente non c'è niente Ma che roba Ma che roba, niente di niente No, peccato, peccato Tra l'altro pure hai visto in giro che con l'ultimo aggiornamento Hanno messo i polli qua su Duty After Wars Ma dove sono sti polli? Io non li ho ancora visti Non li ho visti Polletti Dove siete? Dove siete? Ma qui c'è una freccia Aspettate Ma che è sta freccia? Ah, perché è vero Con l'ultimo aggiornamento Ci hanno dato la possibilità di comprare i garage Ma qui c'è una palla Ma cosa? Posso giocare a pallone? Dove è finito il pallone? Scusate Avevo un pallone Ma che fine ha fatto sto pallone? Che fine ha fatto? Ma che roba E niente Mi è sparito Mi è sparito Non c'è più Non c'è più Eh, che roba però E chissà se posso comprare i garage pure dove si trova Ricci Ma qui c'è una casa Aspettate Ma qui c'è una casa intera C'è pure un letto da queste parti Ma anche questa qua forse sarà la casa di Chad No, veramente Così per curiosità Qui c'è proprio una casa completa Qui dentro anche Anche qua No, qui più o meno Questa è meno completa Quell'altra invece c'è molta più roba Ok Apri qua Velocemente Buonasera a tutti C'è qualcuno? Posso giocare? Sì, guardate Aspettate Ho un gioco Posso metterlo qua? Aspettate Forse mi dà Mi dà niente Ma che? Forse è meglio togliere il noclip Ma Altrimenti qua non riesco più a muovermi Allora Prendiamo sto giochino Ma Mettiamolo Qui dentro Non me lo fa mettere Niente Mi sa che è sto coso Dove devo metterlo? Dove va messo? Di qua Dentro sto computer Cosa ci faccio con sto giochino? Forse mi sblocca qualche nuovo cheat Proviamo a metterlo dentro la console di casa nostra Magari devo metterlo di là Non lo so Non ne ho idea Sto tutto facendo In diretta per la prima volta insieme a voi Ma sto furgone come c'è arrivato qui? Come c'è arrivato? Metti qua Velocemente Inserisci cassetta Niente Lo va messo qua dentro Non devo metterlo di là E che peccato Io già mi immaginavo un nuovo cheat da scoprire insieme Io già mi immaginavo chissà che cosa E invece nulla di tutto ciò Nulla di tutto ciò Niente Sto disco rimarrà lì Non lo potrò mai usare Vabbè gioco con sto coso Cos'è sta roba? Ma che cos'è? Allora Rimettiamo di nuovo qua il low clip Così ci muoviamo più velocemente Ed eccoci qua Torniamo a volare Per la dude city E voglio dire Qui si hanno aggiunto qualcosa Dentro il municipio Con nuovo aggiornamento Chissà Chissà Qui c'è una statua C'era già prima sta statua Ma cos'è? Ma chi è? Il coso di minecraft Il personaggio di minecraft Si trova qui in cima Ma cos'è? Ma perché c'è sta roba? Ma il motivo proprio Boh Non c'è dato saperlo Non lo scopriremo mai Ma perché? Ma che roba Ma che roba Qui dentro invece Dentro qua Sto palazzo Niente di niente Beh in futuro sicuramente Aggiungeranno qualcosa Ecco una cosa che non ho ancora visto Nell'ultimo aggiornamento E la banca Non sono ancora entrato lì dentro Vediamo che cosa c'è Qui tra l'altro nella vecchia versione Ci stava l'alieno E ma aspettate cos'è sta roba? Ma c'è un tubo gigante anche qua Cioè allora Quando siamo andati a vedere l'alieno piccolo Dove ci sono le rovine sotto la montagna Ci hanno messo un tubo piccolo Adesso qua dove c'era l'alieno gigante Hanno messo un tubo gigante Ma perché? Ma il significato di questi tubi Qui dentro tra l'altro dovrebbe trovarsi cos'è Allora Da notare qua il tapetto Benvenuto Welcome Entriamo dentro E c'è tipo Un'antenna per comunicare con lo spazio La stessa antenna che si trova all'interno dell'area 51 Mamma mia oggi proprio non riesco a parlare Ma perché? Sono tappato Sono tappato Ho la gola tappata Il noso tappato Cioè veramente Scusate per sta voce buggata che avrò in questi giorni Però purtroppo Non dipende da me Spero di guarire il più presto possibile Perché ci tengo a portarvi video sempre più divertenti Qui dentro Dentro sta casa Ma qui in giro non ci stavano i polletti Qui dentro sto coso Ci sta ancora il pollo Sì guardate Ci sta il pollo Ma tra l'altro con l'ultimo aggiornamento Avrebbero dovuto giungere anche i polli Quelli reali Quelli che girano per la città Però non li trovo C'è qualcuno è riuscito a trovarli questi polli Io non li ho ancora trovate Se qualcuno sa dove si trovano Magari Boh fatemelo sapere qui sotto nei commenti Così provo a cercarli insieme a voi Qui sotto hanno messo qualcosa Ma cosa c'è? L'acqua L'acqua sotto l'acqua abbiamo Ma che roba Qui sopra invece No aspettate Aspettate Da notare che qua Qua c'è dell'acqua Salgo di sopra e c'è il terreno Vado di qua E non c'è più l'acqua di sopra Ma come l'hanno fatta sta cosa Come l'hanno fatta che sta roba Ma cos'è? Ma Sto tubo Che va proprio sotto No no seriamente Io sta cosa Niente C'è Non c'è sto tubo Qui c'è un tubo Che proprio va sotto Va proprio sotto Andiamo a vedere cosa c'è proprio sotto la mappa Da questo lato Vediamo se c'è qualcosa E no Non c'è niente Niente di niente Ma perché c'è sto tubo di qua? Andiamo a vedere allora Se anche lo stesso tubo si trova All'interno della montagna Dove c'è l'altro alieno Da notare che comunque Sotto la mappa Soltanto la torre dell'orologio Si nota in questo modo Le altre case No non si notano così Ma che roba Andiamo subito a vedere sotto la montagna Che cosa troviamo? Cosa c'è di là? Che è quella roba? Anche qua ci sono delle cose sotto terra Anche qua notiamo parti di edifici Parti di costruzione Sotto terra E vabbè dai Meglio così Ma la cosa più importante adesso È vedere la montagna Come la vediamo da sotto terra Se c'è quel tubo gigante Anzi quel minutubo Scendere sotto Proviamo a vedere Sono veramente curioso Mamma mia Sono veramente tappato Non ho mai registrato un video Con il naso così tappato come oggi Ma che roba Eccolo qua L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Sì 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 Anche qua c'è il tubo che va sotto Anche qua abbiamo il tubo che va sotto terra Guardatelo qua E qui dove si trova l'alieno Quello piccolo Anzi Si trovava l'alieno piccolo Invece hanno sostituito questo cilindro qua Che va pure sotto terra E chissà qui sotto che cosa c'è Chissà che significato hanno tutti questi cilindri O sono stati messi così a caso Oppure non lo so C'è qualche collegamento sotterraneo Aggiungeranno qualcosa sotto terra all'interno della mappa Beh effettivamente all'interno di questo gioco Mancano proprio delle gallerie sotto terra Proprio per andare sotto la mappa Per vedere che cosa nasconde Sarebbe veramente troppo bello vedere una roba del genere E adesso andiamo di qua Usciamo fuori dall'acqua Dalla mappa Insomma quello che è Perché qua ci troviamo pure dell'acqua Sotto la mappa Dove noi non ci possiamo neanche andare E adesso voglio provare però altre funzioni Perché qua possiamo Ad esempio c'è l'NPC staff Cos'è? Ah posso migliorare l'intelligenza artificiale Delle persone No polizia Niente al resto Eh velocità delle persone Posso far spawnare persone così? Ma cosa? Ma guardate Ho fatto spawnare una persona in aria In aria faccio spawnare persone Ma che roba Guardate qua No veramente bellissima sta cosa Togliamo Vabbè Prima di togliere il noclip E chiudiamo qua Andiamo qui sotto Ci togliamo il noclip Per evitare danno Anche se effettivamente Avendo il god mod Non dovrei farmi nulla Però io nel dubbio Mi metto qui sotto E facciamo spawnare tante persone Qui Ma che roba Guardate qua Persone che spawnano Ma scusate Care persone Ma perché state così? Ah perché qua la dimensione Ma questa Ai Io pensavo che fosse L'intelligenza artificiale Invece è la dimensione Delle persone stesse Ma sono diventate Proprio piccole piccole Piccolissime Sono diventate queste persone Ma guardate qua Posso colpirla Posso prenderla qua Con la mazza Niente Non si fa niente Niente di niente Ma che roba Vediamo se posso io Grandire questa volta Follow player Questo mi mancava Cosa fa sto follow player? Forse mi fa seguire Una persona a me O tutte e quante persone Verranno verso di me Non lo so Devo scoprire meglio Sta cosa Andiamo qua su weapon Ah posso avere munizioni limitate Più danni Eh Shotting rapido Pallottole esplosive Ma cosa Pallottole esplosive addirittura Insomma ci sono tante belle cose Posso anche fare il rendering Completo della città Da qua Cioè da qua vedo adesso Tutta quanta la città Tutta renderizzata In avanti Senza avere tipo Non so Sapete no Che alcuni oggetti Compaiono pian piano Più vicino E più compaiono E qua invece in questo modo Sono già tutte quante comparse Tutte quante Io da qua tecnicamente Volendo Potrei pure vedere Tutti quanti gli oggetti Che stanno sull'isola dell'area 51 Solo che sta cosa Fa leggermente laggare la mod Vabbè Non importa Non importa Vediamo qua Spawn car Qui posso far spawnare gli oggetti Il gioco Minigames Misc Cosa posso fare Qua No vorrei fare un'altra cosa Andiamo qua su player Rimettiamo qua il coso Dove è che si trova Allora Noclip Ma voglio andare proprio qua Tutte quante le mie dimensioni Voglio diventare la massima dimensione Volete limitate Speciali limitate Che sono sti speciali limitate Guardate qua Sono diventato gigante Sono gigantissimo Ma che roba Qui dov'è Chad Guardate qua Chad Eccolo qua Chad Guardate Ma cosa gli sto facendo La nebbia Lo sto colpendo proprio forte Con la mazza Ma non succede niente Non succede niente Rimane sempre lì Immobile Sarebbe bello Tipo non so Fare una mod Dove noi possiamo guidare Chad In attesa del prossimo aggiornamento No sarebbe veramente molto bello Molto divertente Qua c'è qualcosa Qui sopra Qualche soldo da raccogliere Niente di niente Nulla di nulla E vabbè Allora io direi di fare una cosa Ma visto che qua comunque Ci sono altri esperimenti Che potremmo fare Nei prossimi video Tra l'altro in questo mod So che il creatore della mod Ha attivato pure dei cheat E quindi vorrei provarli In un prossimo video Il video finisce qua Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Ti vi è piaciuto Se vi è piaciuto Vi raccomando Spallicinate Quando vi date Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buona giornata Buona giornata Buona giornata Ciao a tutti Buon parino a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.